Salve a tutti ragazzi sono io Ring The Euro 22 questa nuova parte del Let's Play di Banjo Kazooie allora qua dobbiamo andare no dobbiamo andare giù questa parte penso che questa parte dentro il nuovo mondo penultimo e quindi adesso dobbiamo andare su ok io vedo che c'è una scatola della paria e qualcosa per far alzare ancora l'acqua adesso si può andare di là wow qua c'è un calderone dormiva e si è creato un collegamento ok ok apriamo il mondo apriamo il mondo apriamo il mondo da Rusty Bucket Bay e poi e poi devono passare di qua penso o no 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 non c'è niente qua dormiamo in là si hai già letto e poi e poi entriamo il nuovo mondo eccoci qua questo mondo questo mondo sarà molto molto difficile molto molto e anche un chiuso cerchiamo di resistere cerchiamo di resistere che è quasi finita anche il let's play e anche se è il penultimo non lo facciamo su sporaggiare se non altro se non altro la pensone non è male facciamo la spoglia di apparsi provo a passarci lì ok passiamo un po' solo soprano andiamo sul nome attenzione a spoloso e viene a e a e a 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 v a a non c'è niente bisogna entrare qua adesso dov'è che entra adesso andiamo a questo gorsante che ferma non potte come giro non 3-1 3-1-2-1-1 ritorniamoci questa ok si può entrare la laffan ci fai sul letto questo idiota tutte piume rosse ok eh si fotocamera allora che numero era che devono tenersi a mente? 3-1-2-1-1 3-1-2 3-1-2 ok ok ecco 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 non ho imparato che cose scintillate rosse scottano attenzione guardate le notte non ho imparato che peggio e non ho imparato Questa è la sala da comandi Questa è la sala da comandi Questa è la sala da comandi ecco scusate un'altra stanza sono tutte stanze così wow un'altra di quelle uova a spezzare ok ok questo mondo molto 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 difficile e non vedo l'ora di finirlo un'altra stanza l'ora Allora, fai così, tiriamo su la gabbia e poi in fretta, prima che si disattivi, salire su e andare lì. Cacchio, non so se ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. Ok, pensavo. Bravo. Ok. Ed ora? Da dietro? È un trattico. Però, qua, questo è vero. Pensavo fosse falsa. Queste sono veri. Pensavo che questo è falsa. E' vero, è anche vero. Posso entrare? Ma qua. Ma dai, entra! Ma io l'ho beccato, cazzo! Minchia. Te ne affanculo. Gosto di me. Gli odio tutti quelli che riescono. Te l'ho anche beccato col beccolo, ma non l'ha fatto niente. Dai! Sto perdendo un po' la pazienza, perché veramente... Vai! Ma va! Fattulo culo, proprio lì doveva esserci la scatola esplosiva. Adesso ho per uscire. Ma che lo faccio? No! Sì! Questa è la famosa stanza mega-bastarda. Guardate, qua. Qua? Ah, questa la vedo male. Questa è la famosa stanza mega-bastarda. Andiamo giù. Come in fondo. Ai 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 ai, aspettiamo, aspettiamo. Ecco, ecco, ecco. E non è fredda. Io la odio questa. Questa qua è probabilmente una delle stanze peggiori di questo momento. Anche qua bisogna aspettare. E' pronto. E' un po' di qua. Ai ai ai. Odio questa stanza. La odio. No, no, no. No, 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 no. Non ci credo. No. Ricominciare è tutto. Non è possibile. No, no, no. 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 Non posso crederci che devo rifare tutto, tutto quello che ho fatto finora. No, il gighi no, però tutte le note, che noia. Questa volta la stanza lì la faccio subito, non posso crederci. La giusta è la mia, non posso crederci, non posso crederci. Non è vero, non posso crederci, non sembra che non crederci. Il gighi no, non posso crederci, non è vero, non è vero, non è vero. lo odio questo peggiore di tutto ci sono gli altri giochi che sono di altri modi ancora peggiori però di questo gioco anche se è peggiori è vera la musica se vuoi è anche magari un po' bello io ho chiuso anche poco zio, questo quasi non scherza quasi vediamo tutte le note che erano curate lasciamo ormai devo rientrare in tutto fa un culo qua sono già entrato o no? cioè si so che ero entrato ma non so se sono rientrato ormai vi saprò molto? no questa stanza no vi prego nooo ecco perché io odio questo mondo eh sì è vero odiamo la caverna di Clanker ma questo guai è ancora peggio chiamatevi ancora peggio è peggio molto peggio e siamo appena all'inizio qua avolo adesso dobbiamo riprendere tutte le questa volta l'uomo il silenzio non un po' più se ti vuote che il punto che come deve vedere la cosa che si può snotare se non rischiare a prendere il Mambu Token è colpa di quel Mambu Token che era lì sopra qua c'è il rischio ok aspettiamo che aspetta no 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 di nuovo non è possibile oh ma ragazzi sapete cosa faccio? taglio perché sono ritornato qua questa volta guai se muoio ancora ecco mi dice che avevamo battuto record si vabbè perché prima eravamo morti che rischio adesso 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 con calma e ripeto con calma qua facciamo con calma aspettate eh su pronto però lasciamo passare prima la gira la gira eravamo facciamo il tempo se muoio se muoio confronta qua queste scelte il tempo sono fottuto non 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 comunque ragazzi sono io l'ingair 22 per dirvi che ce l'ho fatta a prenderlo finalmente occhi non mi manca mi non prima casinnen è solo di vedere se, ok le note, ce le ho tutte, ed è una cosa ultra spaventosa, dico, finalmente, finalmente sì, perché non ne potevo più, non sapete quante volte ho dovuto rifarlo prima, perché ormai ho registrato solo adesso, però non sapete quante volte ho dovuto rifarlo prima ancora, ecco qua riempiamo, e passiamo di qua, non so neanche a quanto tempo siamo arrivati, perché se taglio tutte queste parti qua, comunque lì c'è un Gingio, ma lo voglio rischiare, ecco, mi guardo tutto il record, noi non possiamo vedere perché l'ultima volta eravamo morti, io penso che, prendo quel Gingio e poi, attenzione allo su, ecco, no, vattene, lì c'è un buco, entriamo lì, se riesco, ecco, anche qua, comunque ecco, facciamo quel pulsante, anzi neanche, io penso che per questa parte sia tutto ragazzi, e io vi saluto qua, ci vediamo nella prossima, ciao a tutti.